Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video che vi spiego come aumentare gli FPS su Hellblade 2 ovviamente c'è chi ha problemi di lag io con una 1660 Super, con la processore ASC5 3600 mettendo tutte le prestazioni ultra, minimo di FPS 7 e massimo degli FPS sono sui 14 quindi in questo caso per aumentare così gli FPS possiamo arrangiarci con la modalità AMD FSR 3.0 quindi se andiamo un attimo sulle impostazioni, andiamo su grafica, andiamo su AMD FSR 3, upscaling personalizzato modalità qualità upscaling possiamo mettere prestazioni ultra, scendiamo fino a giù fino a trovare così le impostazioni avanzate anti-leasing mettiamo inferiore, qualità post elaborazione mettiamo inferiore, riguardo alla qualità texture mettiamo sulla media a distanza di visualizzazione mettiamo sulla media, una volta fatto il gioco ed ecco qua ora, se ti ritrovi con la grafica in questo modo, che si vede veramente malissimo però gli FPS sono aumentati ritorniamo sulle impostazioni, andiamo su grafica prestazioni ultra perché l'upscaling si è ridotto così, quindi ha ridotto così la grafica, quindi la vedi così prestazioni ultra, metti solamente prestazioni, nitidezza, metti sul 50, scendi fino a giù fino a trovare qualità texture, metti superiore, torni indietro, hai fatto ed eccoci qua abbiamo perso 10-15 FPS però si vede abbastanza bene come seconda soluzione possiamo sempre usare il programma Nvidia App che ti ho lasciato in descrizione in alto a destra c'è anche un tutorial su come usare al meglio Nvidia App andiamo direttamente su grafica, scendiamo fino a giù fino a trovare così il gioco Hellblade 2 una volta trovato così Hellblade.exe qua sui programmi andiamo sui posizioni driver brillantezza dinamica ray tracing e densità al 50 mettiamo tutto zero facciamo applica modalità bassa latenza metti disattivato, frequenza fotogrammi massimo metti 1000 FPS tecnologia monitor globale compatibilità G-Sync modalità di gestione di alimentazione potenza ottimale oppure preferisci prestazioni massime, singolarizzazione verticale mettiamo disattivato anche se non sopporto l'ottimizzazione del gioco però possiamo sempre usare le impostazioni driver su Hellblade 2 quindi per altri problemi ancora voi commentate sotto al video cercherò di realizzare un'altra guida come aumentare ancora di più gli FPS su Hellblade 2 per ora il minimo degli FPS sono sui 45-47 fps massimo 61 con quelle impostazioni che ti ho fatto vedere quindi già è tanto che i miei componenti, i miei computer supportano così Hellblade 2 non tutto al massimo con ray tracing però almeno mi arrangio con la grafica media e con la modalità FSR di AMD quindi se questo video ti è stato udrissimo iscriviti e lasciate like noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao